Attenza valida per questa prima batteria, Junior Femmier con Giada Ragone davanti, poi Angelica Piloni in seconda posizione, Piloni poi passa Lea Corradini all'interno. Occhio al tempo, torniamo a guardare il cronometro, torniamo a guardare il cronometro, suona la campana con Lea Corradini davanti, poi in seconda posizione Giada Ragone, sono molto vicini a tutti e quattro, c'è anche Marzia Vatti e adesso Angelica Piloni all'esterno. Tempo di 52 e 64, Angelica Piloni 52, la partenza è valida, Asia Negri, dovuto davanti con Vittoria Pizzini in seconda posizione, Pizzini e Nadoloschi in terza, ma poi c'è un gran vantaggio. La campionessa europea che adesso cavalla pochissimo nella curva e al passaggio suona la campana. e all'interno Martina Vitale va a prendersi la seconda posizione. Per Asia Negri sicuramente carica di lavoro per gli impegni successivi quest'anno arriva Asia, il tempo non si vede, ma ce l'avremo presto secondo posto per Elena Bojoschi. La partenza è valida, Saragatti, Francesca Filippi. Avanti Saragatti, poi Francesca Filippi, una centometrista pura, una dei migliori velocisti in Italia sul podio anche recentemente, Cameragliani. di 550 metri potrebbero essere un po' lunghi per lei, ma adesso è ben in scia, Saragatti, quando il passaggio suona la campana. Saragatti, poi Filippi, poi Susanna Rocchetti in terza posizione. Saragatti con Francesca Filippi, prova Susanna Rocchetti all'interno, non riesce. E sta tenendo molto bene Francesca Filippi con Saragatti davanti, tempo, occhio al tempo. Sono proprio Gatti e Filippi, 53 e 41 il tempo di Saragatti, 53 e 41. .